Ergastole, questa è la pena chiesta dal pubblico ministero Giorgio Bociarelli per Graziano Mesina, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Santino Gungui, avvenuta a Mamoiada la notte di Natale del 1974. La richiesta del PM è stata fatta stamattina nel corso del processo che si sta svolgendo con rito abbreviato presso il gruppo del Tribunale di Nuoro Claudio Cozzella. Secondo l'accusa, Mesina, che non era presente in aula, è responsabile del reato di essere il mandante di un omicidio volontario premeditato. Un'indagine è nata nel corso dell'inchiesta, avviata dalla direzione distrettore antimafia sul traffico internazionale di stupefacenti che nel giugno del 2013 ha portato all'arresto di Mesina, considerato a capo di una banda specializzata nel settore della droga operante in tutta l'isola. Nel processo in corso a Cagliari, il PM ha chiesto per Mesina una condanna a 26 anni. All'origine della nuova accusa, un'intercettazione è raccolta nel corso di quell'indagine. Il procedimento a Nuoro sarebbe dovuto concludere tra oggi e domani, ma i difensori di Mesina hanno chiesto un rinvio. La prossima udienza è stata fissata per il 25 ottobre.